Radio Radicali, siamo con l'ex ministro degli esteri Giulio Terzi Sontag, l'attuale presidente della Commissione Politica dell'Unione Europea, per parlare con lui della visita di Biden a Chieva circa un anno dall'inizio della guerra. Allora, quant'è importante questa visita che ribadisce l'appoggio americano, se mai ce ne fosse stato bisogno, all'Ucraina? E che ragionamento possiamo fare a un anno dopo l'inizio di questo conflitto, di cui non si vede la fine effettivamente? Allora, la tengo io. È una visita di straordinaria importanza, perché è la conclusione di una serie di incontri, di iniziative diplomatiche e di iniziative anche di coesione occidentale nel sostegno all'Ucraina a 360 gradi, sostegno economico, politico e militare. Un sostegno militare che è estremamente importante per far sì che l'Europa, l'Occidente, a cominciare innanzitutto l'Ucraina, il popolo ucraino, per far sì che l'Ucraina si difenda e vinca questo confronto con un'aggressione orribile, mostruosa, fatta di infiniti crimini contro l'umanità, crimini di aggressione, crimini violenze, inaudite, perpetrate contro la popolazione, contro i civili. E' stato molto importante, proprio un giorno e mezzo, due giorni prima della visita, la vicepresidente Kamala Harris, intervenendo a Monaco alla conferenza sulla sicurezza, ha precisato con grande chiarezza e dettaglio, proprio parlando, come lei ha detto, io parlo anche come ex procuratore di giustizia, cioè come capo dell'accusa in tanti processi penali di reati che sono di estrema gravità, quindi ne ho conoscenza diretta, delle prove, del tipo di prove e di evidenze che devono essere fornite in questi tipi di processi. Ebbene, ha detto la Harris, la vicepresidente americana, che abbiamo, dice, noi americani abbiamo raccolto 30.000 casi di indiziati di gravissimi crimini contro l'umanità, da Buccia a Carchieva, da altri posti del Donetsk, in un'infinità di casi di questa enorme offensiva su 1.500 chilometri di confine, nei quali le truppe russe si sono macchiate di cose orrende e al cima della piramide di comando, sicuramente ci sono sì i capi militari, il capo di Stato Maggiore, il Ministro della Difesa, ma c'è il Presidente della Federazione Russa. Quindi questi 30.000 casi, che sono oramai in mano alla giustizia, non soltanto americana, ma alla giustizia internazionale, a tutti i paesi che applicano una giurisdizione universale per i gravi crimini contro l'umanità e i crimini internazionali, questi casi dimostrano la tipologia dell'aggressione, una cosa mostruosa, che fa ricordare soltanto gli orrori della Seconda Guerra Mondiale, fa ricordare soprattutto quelli, gli orrori di un nazismo e di un mondo sovietico, di un mondo comunista, che si è accordato. Io releggevo proprio in queste ore, perché nell'occasione, nell'arrivare alla giornata del 24 febbraio, certe cose bisogna ricordarle. E allora ricordiamo anche quella risoluzione del Parlamento Europeo, esattamente emanata, approvata, 30 mesi fa, nella quale nazismo e comunismo, come ideologie genocidarie, vengono non soltanto equiparate, ma identificate come elementi ideologici atroci di un confronto che poi porta alla distruzione di interi popoli, di intere etnie, all'eradicazione genocitaria di religioni, di capacità di esistere. Oggi Biden, a Kiev, ha detto, noi siamo con gli ucraini, perché la nazione ucraina voleva essere, doveva essere, secondo Putin, spazzata via dall'Europa, e invece noi siamo con la democrazia ucraina, con l'Ucraina che è occidente, che deve essere, che è libera, e resterà libera perché noi americani la sosterremo in ogni modo, la sosterremo in ogni modo possibile perché vinca, perché si affermi, perché abbia ragione dell'aggressore. Ecco, questo è il senso e il significato. Vediamolo anche in relazione a quello che ha detto il Parlamento Europeo 30 mesi fa, esattamente, in modo così preveggente su quello che sarebbe accaduto dopo. Vuole dire qualcosa anche sul rischio di un sostegno cinese alla Russia? Allora, si sta discutendo molto di questo, mentre si sta programmando un nuovo pacchetto di sanzioni, e mentre l'Europa si sta quasi affrancando dalla necessità del rifornimento energetico da parte della Russia. Allora, che cosa cambierebbe la posizione cinese? Abbiamo visto che l'arma dell'energia, che è un'arma fondamentale utilizzata da Putin contro l'Europa, in questa guerra di aggressione contro l'Europa, l'arma dell'energia si è spuntata in modo clamoroso, perché oramai... Abbiamo bruciato un po' i tempi, diciamo. ...è diminuita di 10 volte col price cap, e quello che poi è accaduto sui mercati internazionali del gas, e anche del petrolio, e anche del greggio, c'è stato un ridimensionamento enorme, e questo dimostra che l'azione italiana, di cui è stato artefice il Presidente Draghi, e la Presidente Meloni appena giunta al governo, hanno, questo governo, è riuscito a determinare, anzi a contribuire in modo molto sostanziale, l'approvazione di questo tetto al gas sulle forniture dal mercato internazionale. Quindi abbiamo visto che è stato un elemento molto significativo in quello che sta avvenendo. Ci si affranca con tutto l'insieme di una politica energetica, di approvvigionamenti europei attraverso l'Italia, attraverso l'Italia hub dell'energia nel Mediterraneo, come è stato riputatamente sottolineato dal governo, e è un fatto che ancora una volta evidenzia che ci sono delle strade percorribili, che non dobbiamo cedere di fronte al primo ricatto sull'arma dell'energia o entrare in questo ordine di considerazioni, che tante volte chi non vuole trovare una volontà politica di muoversi o difendere veramente gli interessi nazionali, tante volte si aveva l'impressione in passato di cedimenti incomprensibili. Ecco, l'Italia si è fatta portavoce, non soltanto portavoce, ma forte protagonista di una capacità di differenziare l'approvvigionamento energetico e di conseguenza spuntare in modo decisivo, non dico completamente, ma spuntare in modo molto rilevante quest'arma e questo ricatto energetico da parte del Presidente Putin. Ora, il rapporto Cina-Russia è chiarissimo, è un rapporto di alleanza ed è un'alleanza aggressiva. Anche te la Cina lo nega in qualche modo? No, ma lo nega fino a un certo punto, perché la Cina dice in queste cose molto ambigue fatte per cercare di sostenere anche la propaganda russa, la narrativa russa. Ha dato l'impressione l'altro giorno l'inviato del Presidente cinese in Europa e anche a Roma ha detto ma in fine conti noi faremo il possibile per promuovere il dialogo fra le parti. Cioè ma ci rendiamo conto promuovere il dialogo fra le parti? Non vuol dire assolutamente nulla e ancora meno vuol dire se poi in parallelo, addirittura nelle stesse ore, si rivelano degli atteggiamenti addirittura di negazione della realtà, la storia della sorveglianza attraverso i palloni, le mongolfiere aerostatiche di alta quota da 60.000 metri o altre forme di intrusione che sono chiarissime e addirittura questi accenni che vengono fatti dalla Cina o che la Russia fa capire essere in discussione di possibili forniture di armi o di sostegno economici. Sicuramente la Cina opera sin dall'inizio in ogni modo possibile per far sì che le sanzioni economiche occidentali alla Russia vengono bypassate attraverso altri circuiti con l'aiuto dell'Iran, della Cina stessa, l'acquisto di petrolio russo contrabbandato su una flotta enorme di petroliere iraniane sostenute anche dai cinesi che sono circa ormai un centinaio di unità che girano per il mondo vendendo petrolio russo su navi iraniane ma con la complicità anche cinese in giro per il mondo per cercare di mantenere alti prezzi l'egreggio. Quindi sono tutte queste operazioni. Sicuramente la Cina non sta dalla parte dell'Occidente. Avrebbe potuto spegnere il conflitto in tre minuti il 24 febbraio anzi impedire che il conflitto partisse perché sicuramente Putin ne ha parlato con Xi Jinping nel famoso incontro alle Olimpiadi e il patto olimpico come si era chiamato al momento. Quindi quello è stato un patto di aggressione. Io credo che come tantissimi osservatori internazionali sono estremamente riservati sul fatto che ci sia una carta cinese nel bloccare il conflitto perché dopo un anno la Cina purtroppo ha interesse a indebolire l'Occidente giocando risponda con la Russia. Un'ultima domanda. La Turchia. Allora ha fatto bene Blinken ad andare in Turchia dopo il terremoto e a dare tutti quegli aiuti economici considerando che la Turchia pur facendo parte della Nato non è mai mancata a vertici importanti come quello di Samarkand diventando un interlocutore diciamo parallelo della Russia. Allora quanto è delicata la posizione della Turchia in questa fase? Ma è delicata la posizione della Turchia nei confronti dell'Alleanza Atlantica dell'Unione Europea e dei paesi che politicamente sono assolutamente coesi ma non soltanto politicamente ma anche nelle sanzioni economiche nei sostegni militari all'Ucraina. È delicata la posizione della Turchia nei confronti dell'Alleanza Atlantica ma anche viceversa. E questo non c'è dubbio. Erdogan ha giocato da sempre un ruolo ambiguo da molti anni. Basti dire che da una parte invoca la fornitura di F-35 i cacciabombardieri di ottimissima generazione dall'America allo stesso tempo non ha assolutamente bloccato, impedito già qualche anno fa l'acquisto degli S-400 cioè della contraerea di ultima generazione da parte della Russia. Quindi le due cose, è chiaro, nel momento in cui cerca di armare la sua forza aerea e di ottenere dei sistemi di contraere vuol dire che dal punto di vista anche tecnologico ma anche strategico non si possono mettersi sono due cose che rischiano di contaminare l'una e l'altra. Quindi questa è la dimostrazione più palese del grado di ambiguità che esiste nell'atteggiamento del Presidente turco. Ma detto questo, il nostro interesse è sicuramente il nostro, dico, interesse dell'Alleanza Atlantica, dell'Unione Europea e del nostro nazionale di mantenere un dialogo molto intenso con la Turchia perché, ad esempio, sulla famosa questione dell'ingresso nell'Alleanza Atlantica di Svezia e Finlandia è chiarissimo che il gioco turco è fatto di un tirare la corda fino all'ultimo per ottenere anche dal punto di vista di visibilità nei confronti della propria opinione pubblica e di dimostrare quanto è forte la posizione di Erdogan per la repressione del terrorismo, tra virgolette, cioè per attaccare tutti gli oppositori politici con la motivazione del terrorismo, PKK, il gruppo dei gulenisti, quello che ancora sopravvive dopo migliaia di incarcerazioni, di persecuzioni di tutti gli oppositori politici finiti in carcere, finiti anche peggio nel sistema turco, è interesse di Erdogan di saltare sull'occasione di un blocco che lui è capace di fare nella ratifica dell'ammissione alla Nato di Svezia e Finlandia e tenerlo bloccato finché non ottiene dagli svedesi soprattutto tutto quello che spera di ottenere. Ma questi sono anche questi degli elementi sui quali poi Erdogan può tirare la corda fino a un certo punto. Chiarissimo. La ringrazio, ringrazio il presidente della Commissione Polizia dell'Unione Europea Giulio Terzi Sant'Agata, ex ministro agli esteri con il quale abbiamo parlato della visita di Biden a Kiev. Grazie. Bene, grazie.